Buongiorno, il catalogo di Campagna 11 ti aspetta con tante novità, scopriamole insieme. La nostra testimonianza Melissa Satta presenta il nuovo mascara Big & Style di Mark, un mascara rivoluzionario che potrai applicare strato su strato senza rimuoverlo prima di riapplicarlo, massimo volume senza grumi. Rimodella con l'accessorio modellante per ciglia, potrai creare look diversi in base all'occasione, e sarai sempre al top in ogni momento della giornata. In questa campagna potrai avere il set Big & Style che contiene mascara, accessorio e modellante a soli 3,95€ per ogni prodotto acquistato nelle pagine con l'immagine del set che troverai sfogliando il catalogo. Crea la vita che desideri con le nuove fragranze Avon Free in versione femminile maschile. Le puoi avere al prezzo lancio di 10,95€. Prova le strofinando al polso e lasciate rassportare dalle loro note olfattive. Abbineci anche la linea complementare per un'esperienza sensoriale unica e completa. Inoltre, acquistando una fragranza Avon Free per lei o per lui, riceverai una cartolina tipo Gratte Vinci e potrai scoprire immediatamente se hai vinto uno dei fantastici premi in palio, Buona fortuna! Ecco l'offerta esclusiva di campagna. Acquistando per 15€ da questo catalogo, potrai avere la fragranza Today nel formato doppio da 100ml a soli 16,95€. E se sei una donna radiosa o gioiosa, approfitta della Plus Offer. Incandensens è la fragranza che fa per te e in questa campagna ne puoi avere 3 a 28,50€. Rendi più dolce il tuo rientro dalle vacanze, concolandoti con una vasta gamma di prodotti d'uso quotidiano. Ecco alcuni esempi. Potrai scegliere i tuoi prodotti preferiti ed averne 3 ad un prezzo eccezionale. Scegli il tuo colore preferito dello smalto Gel Shine Mark, tra una gamma di ben 30 tonalità. Potrai avere il prezzo migliore dell'anno a soli 2,50€ e in più per ogni smalto o top coat acquistato riceverai un campioncino della nuova tinta Labra Mark, novità della prossima campagna. Provalo in anteprima. Ti aspettiamo alla prossima campagna e nel frattempo continuo a seguirci. Grazie. Grazie. Grazie.